Proviamo insieme adesso 30 minuti di mobilità articolare e stimoli proprio eccettivi, una sessione utilizzabile come allenamento a sé stante vero e proprio o come forma di riscaldamento. Ci posizioniamo in ginocchio con le dita dei piedi posizionate in questo modo, estese. A questo punto porto i glutei in direzione dei talloni e resto in posizione retta col rachide. Dopodiché appoggio il collo del piede a terra e vado di nuovo dietro. Ripeto questa posizione per tre volte al fine di liberare l'area delle dita dei piedi e della fascia plantare che a volte molto spesso risultano rigidi. Quindi recupero appoggiando il collo del piede a terra ed effetto l'ultima ripetizione. Tengo la posizione per circa 20 secondi. Mi sposto in posizione di quadrupedia con i polsi in linea con le spalle, le ginocchia, in linea con le anche. A questo punto inspiro, stendo, sposto lo sguardo su e spiro, fletto, sposto lo sguardo all'ombelico. Spesso provo a creare una estensione completa con tutte le curve della schiena in prima fase e poi provo a formare un arco nella seconda fase espirando. inspiro, 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 inspiro. Ultima ripetizione, inspiro, inspiro. Ancora, inspiro, questa volta, espirando, vado col bacino all'indietro e inspirando, ritorno in quadrupedia e stendo, espiro, vado dietro, inspiro, vengo avanti come a formare un movimento sotto a onda, inspiro, espiro, inspiro, inspiro. Anche qui cinque ripetizioni, inspiro, espiro. Dopo passo, inspirando alla posizione di cobra, quindi una estensione ancora più completa della schiena. Sguardo verso l'alto, espiro, ritorno col bacino verso i talloni, inspiro, vengo avanti, sguardo l'alto, espiro, inspiro, inspiro, inspiro. Cinque ripetizioni anche in questo caso, ultima, inspiro, braccia completamente stese, spalle depresse, petto alto, tengo cinque, quattro, tre, due, uno. Paglio, pianto, le dita dei piedi al pavimento, espirando, sposto il bacino verso l'alto, sguardo all'ombelico, braccia stese, tengo dieci secondi la posizione, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. poggio, espiro, vado dietro, inspiro, cobra, avanti, estendo, punte dei piedi giù, espiro, ritorno su, gambe leggermente piegate, talloni in direzione del pavimento, sguardo all'ombelico, testa tra le braccia, poggio, espiro, inspiro, pianto le punte dei piedi, espiro, anche questa sequenza la effetto per cinque ripetizioni, vado dietro, espiro, vengo avanti, inspiro, stendo, punte dei piedi giù, espiro su, inspiro, appoggio, espiro, avanti, inspiro. Dopodiché passo a questa posizione dove ho l'anca della gamba davanti ruotata esternamente e l'anca della gamba dietro ruotata internamente. appoggio la mano, in questo caso sinistra, a terra con le dita rivolte all'indietro, la spalla bella stabilizzata ed effetto movimenti di flesso estensione dell'anca destra con una attivazione del gluteo destro. Nel momento dell'estensione vado ad espirare, inspiro, porto il bacino verso il pavimento, espiro, espiro, estensione, attivazione del gluteo, inspiro, espiro, anche qui cinque ripetizioni, inspiro, espiro, inspiro, 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 espiro. Appoggio il gomito sinistra a terra, impugno il piede destro e stendo la gamba in spiro, spiro cinque ripetizioni, provate a stendere completamente la gamba destra. Dopo aver effettuato quattro cinque movimenti, rimaniamo nella posizione per cinque, quattro, tre, due, uno, avanti. Appoggio mano sinistra sul ginocchio sinistro, mano destra sul collo piede di destra e espirando vado a creare tensione all'altezza dei flessori dell'anca destra, in particolare quadricipite e iliopsoas. Inspiro, espiro, soliti cinque movimenti e alla fine resto cinque, quattro, tre, due, uno, scavalco con il piede destro e il ginocchio sinistro. Espirando e inspirando vado a formare dei movimenti circolari, cinque in senso orario e cinque in senso anti-orario. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, stendo la gamba sinistra, porto braccio sinistro sopra il ginocchio destro ed effetto così una torsione completa tra busto e bacino. Sguardo rivolto all'indietro, tengo la posizione cinque, quattro, tre, due, uno. Internamente effetto la stessa torsione, petto alto, sguardo dietro e tengo cinque, quattro, tre, due, uno. Piego a questo punto la gamba sinistra, ritorno nella posizione di origine, appoggio i gomiti a terra e vado ad effettuare anche in questo caso dei movimenti circolari solo ed esclusivamente a carico del bacino. Cinque movimenti in senso orario, cinque movimenti in senso anti-orario. ritorno su, in avanti, espirando, provo a raggiungere la massima flessione anteriore a ogni espirazione, provo a guadagnare qualche centimetro. Espiro uno, espiro due, espiro tre, espiro quattro, e espiro cinque. Se riuscite a appoggiare la fronte al pavimento, risulta questo un ottimo parametro di mobilità, potrebbe essere un obiettivo. Cambiamo lato, quindi mano sinistra a terra, gambe stese e mi ritrovo con l'anca destra ruotata esternamente, l'anca sinistra ruotata internamente. Inizio il mio lavoro di flesso estensione con un'attivazione del gluteo sinistro nella fase di estensione e cercando di raggiungere il pavimento nella fase di flessione e quindi inspiro, espiro, inspiro cinque movimenti, tre, quattro, cinque. Appoggio il gomito destro a terra, impugno il piede sinistro ed estendo completamente la gamba sinistra per cinque movimenti. Espiro tre, espiro quattro, espiro cinque, tengo cinque, quattro, tre, due, uno, in avanti. Mano destra sul ginocchio destro, mano sinistra sulla caviglia sinistra, espirando vado a creare tensione all'altezza dei flessori dell'anca, quindi gruppo del quadricipite e iliopsoas. Inspiro e espiro, soliti cinque movimenti e tengo tensione per cinque, quattro, tre, due, uno. Su, scavalco con il piede sinistro il ginocchio destro e vado ad effettuare a questo punto dei movimenti circolari, prima in senso orario e poi in senso anti-orario, curando anche qui la respirazione. Stendo a questo punto la gamba destra con il braccio sinistro vado a scavalcare, con il braccio destro vado a scavalcare il ginocchio sinistro ed effetto una torsione con lo sguardo che va all'indietro. Tengo cinque secondi la posizione, quattro, tre, due, uno. Mano destra a terra, effetto la stessa torsione dall'altra parte, ruoto con lo sguardo, cinque, quattro, tre, due, uno. Ritorno nella posizione iniziale, lateralmente appoggio i gomiti ed effetto cinque movimenti circolari col bacino in senso orario e cinque movimenti circolari in senso anti-orario, solo ed esclusivamente a carico del bacino. Ritorno nella posizione eretta col busto ed effetto una flessione anteriore in avanti con le braccia stese e la fronte verso il pavimento. Espiro profondamente per cinque volte ad ogni espirazione, cerco di guadagnare spazio fino a raggiungere con la fronte il suolo. Inspiro, espiro e scendo, inspiro, espiro e scendo, se riesco appoggio, espiro. Ritorno lentamente e a questo punto effetto appoggiando le mani a terra posteriormente dei change, quindi dei movimenti rotazionali con le anche il bacino, cercando di raggiungere ogni volta con le ginocchia al pavimento sia da un lato che dall'altro. Posso effettuare questo esercizio per dieci ripetizioni, per poi passare a una versione senza mani. Quindi piego la schiena, cambio lato, stendo, piego, stendo, inspiro, piego, espiro, appoggio, stendo, inspiro, piego, espiro, appoggio, stendo, inspiro, ancora e ancora. Dopodiché mi fermo in questa posizione con le braccia stese e vado ad effettuare dei movimenti di sblocco e mobilità articolare del complesso scapolo omerale. Con le braccia completamente stese vado ad effettuare dei movimenti di elevazione e depressione scapolare. Elevo, inspiro, deprimo, espiro, inspiro, elevo, espiro, deprimo, 3, 4, 5. Dopodiché passo al lavoro di abduzione, quindi allontanamento scapolare e aduzione scapolare. Espiro, allontano, inspiro, avvicino le scapole. Espiro, antepongo le spalle, inspiro, porto in retroposizione anche questo per 5 movimenti. Dopodiché passo braccia stese a dei movimenti di circonduzione completa. 5 in un senso e 5 nell'altro. Un po' di più. Passo a una posizione a gambe incrociate. E a questo punto posso effettuare dei movimenti analitici a livello del rachide. Iniziando dal tratto cervicale effetto un'anteposizione e una retroposizione del capo. E se riesco degli scivolamenti laterali. Quindi senza effettuare inclinazioni o rotazioni, solo degli scivolamenti, quindi delle traslazioni laterali. Anche in questo caso aumento la difficoltà passando a dei movimenti circolari. 5 in senso orario, 5 in senso anti-orario. Coinvolgendo il piano di movimento trasversale. La stessa cosa la posso fare all'altezza del dorso e quindi con il torace. Inspiro, vengo in avanti, apro, espiro, vado indietro, chiudo, inspiro, apro, espiro. Fletto, inspiro, stendo il tratto dorsale, espiro, fletto il tratto dorsale. Anche questo, 5 movimenti, mi riporto a posizione eretta col busto. E anche qua posso effettuare delle traslazioni, degli scivolamenti. Prima sul lato destro, poi sul lato sinistro. Evitando di inclinare o di ruotare il busto. Cerchiamo di lavorare sul piano frontale in questo caso. Passo anche qui a dei movimenti circolari coinvolgendo a questo punto tratto lombare e tratto dorsale. Ed effetto 5 movimenti circolari in senso orario. Espirando quando vado dietro e inspirando. Quando vengo avanti, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. E quindi in senso anti-orario. Inspiro, espiro, inspiro, 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 inspiro. E espiro. Passo in posizione di half kneeling. Da questa posizione porto la mano sinistra in linea con il piede destro. E inspirando mi chiudo in avanti. Espirando, ruoto in apertura verso l'alto. Cinque movimenti. Inspiro, espiro. Ricercando nella fase di espirazione una verticalità tra il braccio destro e il braccio sinistro. Dopo cinque ripetizioni porto la mano destra all'interno del piede. Anche in questo caso ruoto col busto. Ricerco verticalità tra mano sinistra e mano destra con le braccia completamente stese. Lo sguardo è rivolto alla mano su. E tengo cinque secondi. Quattro, tre, due, uno. Ritorno in posizione retta col busto. E espirando, scendo in avanti. Così da lavorare sia sulla mobilità della caviglia della gamba anteriore che sulla flessibilità dei flessori dell'anca della gamba posteriore. Espirando, porto le braccia in alto e all'indietro aumentando la tensione, lo sguardo verso l'alto. Tengo la posizione per cinque, quattro, tre, respirando profondamente, due, uno. E ritorno e posso cambiare lato e ripetere il tutto dall'altra parte. Quindi gamba sinistra davanti, mano destra in linea con il piede destro. Inspirando, mi chiudo in avanti col braccio sotto la spalla destra. E espirando, ruoto verso l'alto. Inspiro, mi chiudo, espiro, apro. Cinque movimenti, due, tre, quattro, cinque. Mano sinistra all'interno del piede, braccio completamente esteso. E questa volta la torsione la effetto dall'altro lato e ricerco anche qui verticalità tra mano destra, mano sinistra. Sguardo verso l'alto, respiro profondamente. Tengo cinque, quattro, tre, due, uno. Ritorno su, anche qui. Slitto in avanti col bacino lavorando simultaneamente sulla caviglia sinistra e l'anca destra. Aumento la tensione con le braccia stese, andando con le mani all'indietro verso l'alto. e lo sguardo tra le mani e tengo cinque secondi. Mi concentro sulla respirazione. Quattro, tre, due, uno e ritorno. Quadrupedia. Continuo il lavoro di sblocco a carico del tratto dorsale e spalle. Quindi anche catena anteriore, catena cinetica anteriore. Porto le mani in avanti con le braccia completamente stese. E vado col mento in direzione del pavimento, espirando. Inspiro, espiro, braccia stese. Effetto cinque ripetizioni dinamiche. A ogni ripetizione provo a scendere un po' di più. Inspiro, espiro e tengo alla fine cinque secondi. Quattro, tre, due, uno. Ritorno. Con il braccio destro passo sotto la spalla sinistra. Appoggio la spalla a terra. Ecco la mano. Mi aiuto ad effettuare una torsione. E tengo lo sguardo verso l'alto. e la posizione per cinque, quattro, tre, due, uno. Ritorno. Questa volta braccio sinistro passa sotto. Completamente steso. Appoggio a terra. Espiro e tengo cinque, quattro, tre, due, uno. A questo punto vado completamente disteso a terra. Posizione prona. Vado a fare un lavoro di mobilità per le catene cinetiche anteriori. Spiraliforme, quindi crociate con il piede sinistro. Stacco da terra la gamba. Vado esternamente a ricercare il contatto col pavimento. E ruoto esternamente il... Quindi spingo esternamente il ginocchio sinistro ruotando l'anca in rotazione esterna. A questo punto posso piegare il braccio sinistro. Sguardo rivolto verso l'alto. E tengo cinque secondi la posizione concentrandomi sempre sulla respirazione. Cinque, quattro, tre, due, uno. Ricapitolando dall'altro lato. Parto con le braccia larghe. Stacco il piede destro da terra. Apro la gamba esternamente fino a raggiungere il contatto col pavimento. Piego il braccio destro. Spingo esternamente il ginocchio destro. Sguardo verso l'alto. E tengo cinque, quattro, tre, due, uno. Ritorno. E la posizione prona. Poggio entrambi i gomiti a terra. Petto fuori. Sguardo verso l'alto. Tengo in questa posizione cinque secondi. Provando a stendere forte il tratto toracico-dorsale. Quattro, tre, due, uno. Stacco il bacino da terra. Faccio qualche passo avanti con le ginocchia. Pianto le punte dei piedi. Spingo il bacino in alto. Stendendo le gambe. La fronte in direzione dei gomiti. E le gambe in estensione. Lo sguardo verso l'ombelico. Tengo anche qui cinque, quattro, tre, due, uno. Appoggio. E passo alla posizione supina. Quindi completamente distesi a terra. Porto la gamba sinistra. Quindi l'anca sinistra in flessione. La gamba verso l'alto. Col ginocchio completamente esteso e piede a martello. Poi aiutandomi con le mani. Porto il ginocchio in direzione del petto. Ed effettuo dei movimenti circolari. Prima in un senso, poi nell'altro. Con la mano destra vado a creare un incrocio. La spalla sinistra resta attaccata al suolo. E lo sguardo va verso sinistra. Espiro e tengo cinque, quattro, tre, due, uno. Ritorno. Piego la gamba destra. E spingo con la mano all'interno del ginocchio sinistro. Tengo cinque, quattro, tre, due, uno. Con entrambe le mani. Afferro la coscia destra. Tengo cinque, quattro. Mento rivolto verso il basso. Collo allungato. Tre, due, uno. Adesso mano sinistra. Prende la caviglia destra. Mano destra sul ginocchio sinistro. E vado a creare un incrocio. Lo sguardo va verso sinistra. Quindi la testa ruota verso sinistra. E tengo cinque, quattro, tre, due, uno. Stendo le gambe, stendo le braccia. Effetto un auto allungamento. E ripeto tutto dall'altra parte. Quindi gamba destra completamente estesa. Piede a martello. Porto ginocchio in direzione del petto. Espirando. La mano sinistra sul ginocchio destro. E espiro. Vado col ginocchio verso il pavimento. E lo sguardo è rivolto a destra. E tengo cinque, quattro, tre, due, uno. Ritorno. Tiego. Sposto il piede sul ginocchio. Con la mano destra spingo all'interno. Espirando. Quattro, tre, due, uno. Con entrambe le mani afferro la coscia sinistra. E tengo anche qui la tensione. Per cinque, quattro, tre, due, uno. Mano destra. Mano destra. Prendo la caviglia sinistra. Mano sinistra sul ginocchio destro. E vado verso il pavimento col ginocchio. Lo sguardo è rivolto a destra. Tengo cinque, quattro, tre, due, uno. Ritorno. Ritorno. Stendo le gambe. Stendo le braccia. Ed effettuo l'auto allungamento. Piego le gambe. Braccia larghe. Sposto le ginocchia. Prima sul lato. E poi sull'altro. Mi fermo sul lato destro. Porto le ginocchia un po' più su. Braccia destro in alto. E lo sguardo è rivolto a sinistra. Cinque, quattro, tre, due, uno. Ritorno. Cambio lato. Ginocchia su. Braccia in alto. Sguardo rivolto verso destra. E tengo cinque, quattro, tre, due, uno. Ritorno centralmente. Impugno le ginocchia in questo modo. Schiaccio la zona sacroiliaca lombare verso il pavimento. E a questo punto effetto dei movimenti circolari. come una sorta di automassaggio. Prima in un verso e poi nell'altro. Impugno le ginocchia esternamente. e apro ispirando. Vado su e giù. Poi in maniera alternata. e ritorno. E appoggio. E ritorno. E appoggio. Cammino all'indietro. Resto qualche secondo in flessione. Mi srotolo gradualmente. inspiro. Espiro. Espiro. Ok, abbiamo così concluso la nostra prima fase di mobilità articolare. ci vediamo presto per le prossime lezioni. A presto. 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 A presto.